Oggi la seduta del Consiglio regionale si è aperta con una speciale cerimonia, la consegna del picchio d'oro, il massimo riconoscimento della Regione Marche, alle personalità che si sono distinte nei diversi campi di attività. A riceverlo Mari Cabranchesi, l'astrofisica originaria di Urbino, che ha compiuto scoperte determinanti sulle onde gravitazionali e annoverata tra le 100 personalità più influenti al mondo. Sono molto emozionata ed è bellissimo perché la mia regione è una regione che amo e quindi avere un riconoscimento da questa regione è veramente bellissimo. È un mestiere che la gente vede come mestiere per uomo e invece le donne riescono a fare benissimo le scienziate e sono soltanto degli stereotipi, quelli che vedono gli uomini come le persone adatte per la scienza. Non è stato facile in alcuni momenti ma le scoperte degli ultimi anni parlano proprio di diversità. Sono delle scoperte che sono state fatte da veramente tantissimi scienziati di tutto il mondo, scienziate e scienziati e sono scoperte del mondo. Insieme a lei è il professore Eugenio Coccia, a cui è stata consegnata una targa di riconoscimento. Coccia, di San Benedetto del Tronto, rettore del Gran Sasso Scienzi Institute Fisico Sperimentale, opera e ricerca nel campo della fisica astro-particellare, in particolare sullo studio delle onde gravitazionali.